Benvenuti a questo nuovo ciclo di esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza? Il significato è quello di mostrare proprio come nel momenti più difficili bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito d'iniziativa. Questa è stata la nostra scelta. In un momento di crisi, come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare. Poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, dei fake news e della salute di Gacciaia Alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e se il discorso portato avanti vi piacerà, a collaborare con il Circolo Bianchini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Benvenuti a una nuova puntata di Esplorare i confini, una produzione del Circolo Culturale Bianchini di Fano. Oggi ci troviamo sulla terrazza dell'Osservatorio Meteorologico Storico di Moncalieri, alle porte di Torino, uno dei luoghi simbolici della meteorologia italiana. Qui nel 1865 padre Francesco Denza, un meteorologo barnabita, fondò sia l'Osservatorio Meteorologico in cui oggi ci troviamo, sia la società meteorologica italiana di cui faccio parte e che oggi è una delle principali realtà dell'associazionismo meteorologico italiano e raduno a circa un migliaio di associati, dai professionisti fino ai semplici amatori. Nel 2018 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha nominato l'Osservatorio di Moncalieri stazione centenaria, nel quadro di una iniziativa internazionale Centennial Observing Station che aveva l'obiettivo, che ha l'obiettivo di riconoscere, premiare anche gli osservatori con più lunga e continuativa serie di osservazioni e di salvaguardarne anche la testimonianza non solo scientifica, ma anche culturale e storica. Non solo l'Osservatorio di Moncalieri a Torino, ma anche diversi altri in Italia, da Modena a Firenze a Roma, per arrivare anche agli osservatori marchigiani di Pesaro, Osservatorio Valerio, e di Urbino, Osservatorio Serpieri. Questo quindi è un luogo prioritario per lo studio del clima, in quanto per studiare come il clima evode, come cambia nel tempo, è importante raccogliere delle lunghe serie di osservazione. E qui questo si fa appunto da oltre 150 anni, dal 1865. Intanto dove ci troviamo? Siamo ai piedi delle Alpi, a una quota di circa 270 metri. Le Alpi oggi all'orizzonte non si vedono bene perché abbiamo una certa copertura nuvolosa, ma si possono immaginare con le prime propaggini che vedete alle mie spalle all'imbocco della valle di Susa. Così qualche aneddoto intanto sul clima locale, in base a quello che si è osservato in oltre un secolo e mezzo di osservazioni. Qui abbiamo attualmente delle temperature medianue di 15 gradi che sono molto diverse rispetto alle prime osservazioni che padre Denza fece un secolo e mezzo fa. All'epoca la temperatura media era dell'ordine di 13 gradi, 12 gradi e mezzo, 13, e in questo lasso di tempo le temperature sono aumentate di quasi 2 gradi e mezzo. Questo è un aumento davvero significativo, rilevante, che è anche ben superiore alla media globale di aumento termico che è di circa 1,2 gradi rispetto all'era preindustriale, quindi diciamo intorno alla metà dell'Ottocento. Il clima terrestre si sta riscaldando in maniera non omogenea ovunque, ovunque si sta riscaldando, si può dire, ma in alcuni luoghi più intensamente, in alcuni luoghi un po' meno. Qui, come sulle Alpi in generale, ma ancora di più sull'Artico, ad esempio, le temperature aumentano più velocemente che la media globale. Per quanto riguarda le precipitazioni, siamo sui 700 mm di pioggia e neve fusa all'anno, un po' come succede sulle coste marchigiane e anche a Fano, soltanto che in questa zona, nel Piemonte occidentale, abbiamo degli inverni più asciutti e delle primavere più piovose rispetto alle Marche. Un altro elemento interessante per vedere come sta cambiando il clima è la neve. Nevica sempre di meno. Pensate che fino a una trentina d'anni fa, la media storica della quantità totale annua di neve fresca era di mezzo metro. Oggi questa si è ridotta a 18 cm. Nell'ultimo trentennio cadono soltanto più 18 cm di neve fresca all'anno, quindi la quantità di neve si è dimezzata negli ultimi trent'anni. Questo non tanto perché le precipitazioni in sé siano diminuite, quanto perché fa più caldo e quindi quella che un tempo era neve, oggi in gran parte è diventata pioggia. E questo è un fenomeno che si sta verificando non solo qui, ma un po' in tutto il mondo, anche se poi non mancano delle eccezioni. Ad esempio una ricerca proprio degli ultimi giorni ha rivelato che un oceano artico via via più libero dai ghiacci, perché la banchisa artica, ovvero il ghiaccio marino superficiale intorno al Polo Nord, anno dopo anno va restringendosi, ecco la carenza di banchisa fa sì che dall'oceano, con superficie ormai diventata liquida, evapori molta più acqua. Quest'acqua va in circolo in atmosfera e laddove le temperature lo consentono ancora, questo può provocare delle nevicate localmente anche più abbondanti, che però non contraddicono e non smentiscono la tendenza complessiva che è quella di un calo progressivo della quantità media di neve fresca. Abbiamo fatto una piccola introduzione sul clima e sul significato delle osservazioni che si fanno qua a Moncalieri e non solo, in realtà il tema principale di questa puntata sono i ghiacciai, ma i ghiacciai evidentemente dipendono nel loro comportamento, nella loro evoluzione dalle condizioni climatiche, in particolare dall'alimentazione invernale sotto forma di nevicate e dalla fusione estiva che poi determina il bilancio finale da cui dipenderà l'evoluzione a lungo termine del ghiacciaio. Uno sguardo a questa stagione, tra un paio di mesi saliremo anche sul nostro ghiacciaio, si fa per dire che abbiamo adottato già una trentina d'anni sul massiccio del Gran Paradiso per vedere come sarà andata la stagione invernale, ma già sappiamo che almeno per il momento si è trattato di una stagione qua sull'arco occidentale piuttosto avara di nevicata. Abbiamo avuto una lunga siccità, in particolare cominciata all'inizio di febbraio e attenuatasi solamente all'inizio di aprile, per fortuna un po' di pioggia è arrivata negli ultimi giorni, possiamo intanto andare a vedere quanta ne è caduta qui a Moncalieri. Per misurare le precipitazioni serve un pluviometro, questo è un modello ormai antico potremmo dire del Servizio Geografico Nazionale che è stato recentemente automatizzato e quindi ci dà ora per ora, giorno per giorno, la quantità di pioggia che cade, ma è importante procedere almeno periodicamente a dei controlli manuali dell'acqua raccolta in un recipiente sottostante per verificare che il funzionamento sia corretto. Vediamo un po'. Questo è il secchio di raccolta del dell'acqua Abbiamo i primi 10 mm Qua abbiamo un'altra parte della precipitazione che ammonta ad altri 6 mm e siamo a 16 mm caduti negli ultimi due giorni. 16 mm non è granché, ma è già importante per attenuare la siccità che ci attanagliava da un paio di mesi. In montagna, sopra i 1500 metri e caduta neve, l'innevamento rimane comunque deficitario alle quote degli acciai. In questo momento abbiamo circa un metro di neve sulle Alpi torinesi, Gran Paradiso in particolare, a quote di 3000 metri, alle quote degli acciai. Se non arriveranno, come solitamente accade, delle grandi nevicate tra il resto di aprile e maggio, ci troveremo all'inizio dell'estate con una grave carenza di neve e che potrà esporre gli acciai durante l'estate 2021 a delle pesanti perdite di massa, come d'altra parte è capitato anche in molti anni recenti. Andiamo ad esempio sul ghiacceo Cerdonei, a 3000 metri di quota sul massiccio del Gran Paradiso. Questo ghiacciaio viene eseguito con costanza dalla metà degli anni Ottanta dagli operatori della Società Meteorologica Italiana insieme al Comitato Glaciologico Italiano con una serie di campagne annuali. Si misura l'arretramento, l'avanzamento, ma in realtà ormai quasi sempre l'arretramento della fronte di anno in anno e poi in particolare dal 1992 si procede con un tipo di misura più particolare, anche più approfondito, che è il bilancio di massa. Come funziona? Si sale due volte all'anno sul ghiacciaio, la prima volta tra fine maggio e inizio giugno, quando a quelle quote termina il lungo inverno alpino. Si misura lo spessore nevoso e si misura anche la densità del manto nevoso attraverso dei carotaggi della neve, appunto, si prelevano dei campioni di neve lungo l'intero profilo della coltre nevosa fino a toccare il ghiaccio che era rimasto scoperto alla fine dell'estate precedente. E con questo si calcola sostanzialmente quanti metri cubi di acqua si sono accumulati in forma di neve durante l'inverno sul ghiacciaio e questa è l'alimentazione del ghiacciaio. Se vogliamo paragonarlo a un conto in banca sarebbe lo stipendio del ghiacciaio, ciò che entra. Poi però d'estate abbiamo le uscite e queste sono determinate dalle temperature. Più l'estate è calda, più la neve caduta in inverno ed eventualmente anche il ghiaccio sottostante, che si era formato per compattazione della neve di inverni ormai lontani, vengono fusi e quindi il ghiacciaio, come sta capitando sempre più, perde massa. Questo avviene quando d'estate la fusione di neve e ghiaccio sono più intensi rispetto all'accumulo invernale di neve e quindi siamo in questo caso in condizioni di bilancio negativo. Ormai non capita praticamente più di osservare dei bilanci positivi, ovvero quelle situazioni in cui non tutta la neve caduta in inverno fonde in estate, quindi una parte di questa neve rimane sul ghiacciaio e avrebbe avuto eventualmente modo di trasformarsi lentamente in ghiaccio nelle annate successive. Questo in 30 anni di misura l'abbiamo osservato soltanto una volta in maniera molto debole, nel 2001, ma la tendenza generale ha una drastica perdita di massa. In media su questo ghiacciaio si perdono 1,3-1,5 metri di spessore di ghiaccio all'anno e negli ultimi 30 anni ormai di ghiaccio se ne è perso una quarantina di metri di spessore, una quantità davvero notevole. Poi in alcune annate, particolarmente funeste per il ghiacciaio, con inverni poveri di neve e o estati molto calde, si è arrivati a perdere anche oltre 3 metri di spessore glaciale. Ad esempio nella terribile estate del 2003, che molti ricorderanno la più calda estate degli ultimi secoli sulle Alpi e in generale in Europa. Queste sono tendenze comuni a tutto l'arco alpino, ma in realtà praticamente a tutto il mondo. In tutte le catene montuose del mondo gli ghiacciai si stanno consumando a ritmo accelerato e questo porta a una serie di problemi che, mi piace sempre ricordare, sono di gravità crescente allontanandosi dalle montagne e avvicinandosi al mare. Perché allora ci preoccupiamo se gli ghiacciai si arretrano? In montagna è un problema innanzitutto di attrattività turistica. Intubbiamente una bella montagna coperta di neve e di ghiaccio è più attraente e anche spendibile turisticamente rispetto a una pietraia, che è ciò che rimane per lungo tempo dopo che un ghiacciaio si è ritirato. C'è poi un problema in montagna di perdita all'instabilità dei versanti. Quando gli ghiacciai si ritirano lasciano dietro di sé dei terreni dei depositi morenici, quindi suoli molto fragili, facilmente erodibili in caso di pioggia intensa e questo va ad alimentare piene torrentizie con elevato carico solido e dannosità a fondo valle, aumentano i crolli e le frane di roccia dai versanti anche per la degradazione del permafrost, che è quel terreno che era soprattutto in passato permanentemente gelato in profondità. Ora, l'onda termica del riscaldamento atmosferico sta penetrando anche in profondità negli ammassi rocciosi. Il ghiaccio che andava anche a tenere, per così dire, cementate le une alle altre le rocce, tende a congelare, a scomparire e questo destabilizza i versanti determinandone la tendenza a franare. Scendendo verso valle e in pianura invece il problema riguarda più che altro la diversa stagionalità nei deflussi dei torrenti. se la risorsa glaciale tende a scomparire e comunque la neve in montagna affonde troppo presto in primavera, questo è un problema soprattutto per l'estate, che stagione già tipicamente piuttosto asciutta e con importanti prelievi d'acqua per irrigazione dei campi, ad esempio, rischia di rimanere più a corto di risorse idriche. Ma la conseguenza più importante della deglaciazione la troviamo una volta arrivati al mare e agli oceani. Qui vengono convogliate le acque dolci derivanti dalla fusione della neve e dei ghiacci sulle Alpi, ma in particolare le grandi calotte polari di Antartida e Groenlandia e di conseguenza i livelli marini aumentano. Attualmente in media negli ultimi 30 anni circa di 3,5 mm all'anno, che sembra poco, ma in realtà è tanto. Si prevede, anche se non è facile fare una previsione di come esattamente risponderanno le calotte polari all'aumento delle temperature, ma si prevede che da qui a fine secolo i livelli oceanici possono aumentare di circa un metro almeno. Questo è un problema molto grave perché un aumento dei livelli marini di questa entità comporta l'allagamento delle terre già attualmente abitate da oltre 100 milioni di persone. E questo dà anche un'idea della portata geopolitica di questi fenomeni, di questi cambiamenti, perché chiaramente questo determinerà un aumento delle migrazioni umane con tutte le conseguenze geopolitiche che questo comporta. A mo' di esempio abbiamo parlato dei ghiacciai ociardonei sulle Alpi occidentali, ma questa tendenza alla deglaciazione riguarda tutto l'arco alpino, sia italiano sia estero. Pensate che negli ultimi 150 anni circa la superficie dei ghiacciai alpini si è ridotta di oltre la metà. E tutto questo con un aumento di temperatura dell'ordine di 2 gradi, come dicevamo prima, che distrattamente potremmo definire piccolo, ma in realtà per l'ambiente è tantissimo, tanto che appunto ha determinato un dimezzamento di gran lunga dei ghiacciai alpini come superficie. Possiamo fare l'esempio anche del nostro corpo. Se la nostra temperatura media corporea di 37 gradi, quando questa aumenta di un grado già abbiamo la febbre e cominciamo a stare male. Se aumenta di 3 gradi siamo a 40 e stiamo malissimo. Se aumenta di 5, e questo potrebbe accadere entro la fine di questo secolo, se non riduciamo significativamente l'emissione di serra, di schiavo di lasciarci la pelle. Tornando ai ghiacciai, appunto la superficie si è nettamente ridotta a livello alpino. Alcune zone hanno avuto poi delle riduzioni particolarmente intense, zone che già nei tempi addietro, un secolo fa, avevano un glacialismo piuttosto marginale. Pensiamo alle Alpi Marittime, i ghiacciai più meridionali delle Alpi, in posizione quindi molto vulnerabile al riscaldamento, ebbene questi sono quasi totalmente scomparsi. Tuttavia in questi piccoli ghiacciai si riscontrano tra l'ora dei fenomeni curiosi, anche controintuitivi. Siccome questi ghiacciai molto piccoli sono anche molto reattivi alle condizioni climatiche, anche alcune annate particolarmente nevose, che possono pur sempre capitare anche in un mondo che mediamente si riscalda, ebbene in questi casi possono rispondere rapidamente con delle situazioni stazionarie oppure anche di lieve aumento. Ma questo non è un fenomeno che contraddice la tendenza generale alla riglaciazione di tutte le Alpi, che invece prosegue in maniera accelerata. Questo l'abbiamo osservato ad esempio sulle Alpi Marittime, ma anche sulle Alpi Giulie. E' successo che alcuni inverni recenti caratterizzati da levicate estreme hanno fornito agli acciai delle quantità enormi di neve che le pur molto calde estati attuali non sono riusciti a fondere completamente. Questo è l'esempio del ghiaceo del Calin, per esempio alle spalle di Udine, che è aumentato negli ultimi 15 anni di circa 40.000 metri cubi. Però si tratta di un ghiaceo molto piccolo che certamente non è rappresentativo dell'intero arco alpino. Faccio questo esempio solo per far notare come si tratta di fenomeni molto complessi, molto variegati sul territorio, che vanno studiati anche nelle loro peculiarità. Quindi se localmente alcuni ghiacciai sembrano quasi in controtendenza, in realtà questi sono molto piccoli, non rappresentativi di tutte le Alpi italiane, e non solo, nell'insieme delle Alpi a prevalere sono le massicce, sono sempre le massicce perdite di massa glaciale, come dicevamo, dell'ordine di un metro, un metro e mezzo di ghiaccio perso in media all'anno a quote di circa 3.000 metri. Va un po' meglio alle quote molto elevate, sopra i 4.000 metri, dove le temperature sono ancora sufficientemente basse da garantire la conservazione della neve caduta d'inverno e del ghiaccio, per cui a quelle quote ci si accorge ancora poco dei cambiamenti, ma si tratta di una frazione minoritaria del ghiaccio alpino che per la maggior parte si colloca invece a quote tra i 3.000, 3.500, 3.800 metri, e in questa fascia, come dicevamo, le perdite di massa e di spessore glaciale sono davvero importanti. La riduzione dei ghiacciai sulle Alpi comporta talora anche dei problemi di protezione civile. Ad esempio, con le estati sempre più calde, si moltiplica la formazione dei laghi effimeri, laghi temporanei al di sopra o nelle immediate vicinanze dei ghiacciai. Questo perché la fusione della neve e del ghiaccio sono intensificate e l'acqua di fusione si raccoglie in cavità che un tempo ne erano prive e oggi diventano dei laghi che poi possono cedere improvvisamente causando delle sorte di alluvioni a ciel sereno, a fondo valle, improvvisamente. Un grande lago effimero che ha fatto molto parlare di sé nei tempi non troppo lontani è il lago effimero del Monte Rosa, del ghiaccio del Belvedere, a monte di Macugnaga, nel vermano Cusiossola, un lago di circa 3 milioni di metri cubi di volume che è stato oggetto di una imponente operazione di protezione civile per tentarne lo svuotamento controllato. Per fortuna poi in quel caso la natura fu benigna e ci fu uno svuotamento naturale molto lento che determinò sì un ingrossamento del torrente ma non dannoso per cui diciamo che la situazione si risolse felicemente in questo modo. In altri casi però storicamente andò diversamente, ci furono dei rilasci improvvisi di volumi enormi di acqua che provocarono anche molte vittime in passato come nel caso del ghiaccio di Getró sul versante svizzero delle Alpi per cui occorre sempre tenere l'attenzione molto alta per evitare guai di questo genere. Altri problemi possono derivare dal crollo improvviso di porzioni di ghiacciai, di porzioni di ghiacciai sospesi come quello della parete dell'Aiger, come quello del ghiacciai delle Grange Horace sul massiccio del Monte Bianco, talora questi crolli di porzioni sospese che in verità non sempre vengono con chiarezza poi ricondotti al riscaldamento globale ma l'aumento delle temperature può in effetti concorrere anche a cambiamenti nelle proprietà fisiche del ghiaccio che poi portano a un distacco anomalo di porzioni di ghiacciaio come in parte è avvenuto anche al ghiaccio di Plampensier nell'estate del 2020, nell'estate del 2019 e del 2020 a Monte di Courmayeur. Quando questi fenomeni avvengono in inverno, peraltro può anche accadere che i distacchi di ghiaccio possano innescare delle grandi valanghe di neve che poi coinvolgono anche i fondovalle, i fondovalle sottostanti mettendo a rischio la popolazione e i turisti. Le misure strumentali di temperatura avvengono da circa tre secoli nei casi migliori, i primi osservatori meteorologici in Europa, anche più antichi di quello di Moncalieri, hanno cominciato a funzionare nella prima metà del Settecento. Quindi abbiamo una storia climatica che riesce ad andare indietro di diciamo due o tre secoli, nei casi migliori. Se vogliamo invece capire come è cambiato il clima in un passato più lontano, nei millenni, anche nei milioni di anni, dobbiamo rivolgerci a delle ricostruzioni, andando a osservare, ad analizzare degli elementi alpi naturali che hanno scritta al loro interno, per così dire, la storia del clima come in una lunghissima cronistoria, dei lunghissimi diari naturali della storia del clima terrestre. E gli acciai in questo caso ci possono venire d'aiuto, sono di grande aiuto. Sulle Alpi i ghiacciai hanno registrato la storia degli ultimi secoli, perché il ghiaccio delle Alpi non è molto antico, appunto ha, nei migliori dei casi, alcuni secoli di età. Ma nelle grandi calotte polari della Groenlandia, ma ancora meglio dell'Antartide, troviamo ghiacciaio vecchio anche di oltre un milione di anni. E allora si vanno a fare delle perforazioni, dei carotaggi lungo l'intero spessore di questi ghiacciai, fino al fondo roccioso sottostante, e queste carote di ghiaccio che vengono via via estratte, una volta portate in laboratorio, ci racconteranno la storia del clima passato. In che modo? All'interno del ghiaccio, di ghiacciaio, si trovano delle piccole bollicine di aria che sono rimaste intrappolate, isolate dall'ambiente esterno per tutto il lungo periodo, per tutta l'età del ghiaccio. Quindi il ghiaccio che si è formato centomila anni fa, ipotesi, o un milione di anni fa, conterrà al suo interno delle bollicine di aria vecchie di centomila anni o un milione di anni. Analizzando in laboratorio queste piccole bollicine d'aria possiamo capire molte cose dell'atmosfera antica, ad esempio la concentrazione di gas a effetto serra. Pensate che nell'ultimo milione di anni circa, periodo esplorato dal grande progetto di perforazione in Antartide epica, terminato una quindicina di anni fa, in questo lungo lasso di tempo, che in realtà ha riguardato 800 mila anni per la precisione, la concentrazione atmosferica di CO2 nell'aria non era mai andata oltre alle 300 parti per milione. Ma con l'avvento dell'era industriale un paio di secoli fa e in maniera crescente fino a oggi, le concentrazioni di gas aria sono via via aumentate e oggi sono arrivate a 419 parti per milione, il massimo da almeno, possiamo dire, un milione di anni. In realtà, se prendiamo in considerazione altre ricerche che hanno analizzato altri indicatori, come ad esempio i rapporti isotopici nelle microscopiche conchiglie di organismi marini, fossili, intrappolati nei sedimenti fangosi degli oceani, scopriamo che concentrazioni di CO2 di questo tipo non si vedevano da almeno 3 milioni di anni, ma secondo ricerche recenti addirittura forse da 23 milioni di anni e questo dà un'idea di quanto sia epocale l'attuale impronta sull'ambiente terrestre, sul sistema terra, dall'attività umane. Nella curva di evoluzione della CO2, del biossido di carbonio, che è il principale tra i gas effetto serra incrementati oggi dall'attività umane, ebbene nella curva della CO2 della ricostruzione del progetto EPICA notiamo efficacemente gli intervalli tra l'alternanza tra le glaciazioni e i periodi interglaciali, quindi glaciazioni in periodi freddi, interglaciali in periodi più caldi, con un'alternanza negli ultimi 800 mila anni ogni 100 mila anni circa. Questo ci fa vedere che il clima anche in passato è cambiato, in questo caso per fattori naturali, in maniera anche clamorosa e imponente con l'alternanza tra periodi glaciali e interglaciali. Qui, alle porte di Torino, durante le ultime fasi glaciali, l'ultima delle quali è terminata circa 11 mila anni fa, raggiungendo il culmine 25 mila anni fa e poi con un'ultima coda si è esaurita circa 11.500 anni fa, ebbene il ghiacciaio arrivava fino alle porte di quella che poi oggi sarebbe diventata Torino. Quindi dalla valle di Susa il ghiaccio si protendeva a sboccare in pianura, costruendo poi il cosiddetto anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, quindi questo sistema di colline foggiato a forma di cordone che cinge lo sbocco della valle nella pianura torinese. Quindi ci sono anche molte testimonianze sul territorio di questi grandi episodi glaciali del passato. Qualcuno potrebbe dire ma allora il clima è già cambiato in passato, perché ci preoccupiamo se cambia anche oggi. In fondo sono fenomeni già visti. In realtà in passato il clima cambiava per cause naturali, oggi invece a queste fluttuazioni naturali che pur continueranno ad esserci si sovrappone l'attività umana che sta portando, sta cambiando radicalmente la composizione atmosferica dell'atmosfera terrestre e sta profondamente alterando i regimi climatici. Quindi non si tratta di cicli, ma si tratta di un fenomeno nuovo che sì si sovrappone a delle ciclicità naturali, ma oggi sta portando il clima terrestre in un regime nuovo che non si era mai visto prima su orizzonti di tempi molto molto lunghi. L'aumento delle temperature è ormai un fenomeno assodato e confermato peraltro da numerosi indicatori climatici, tra cui gli acciai di cui abbiamo parlato, ma anche da altri, come il comportamento della fauna e della flora, lo spostamento verso l'alto delle fasce vegetazionali, delle fasce occupate appunto dai vari ecosistemi. Ma la comunità scientifica internazionale è ormai ampiamente concorde anche nell'attribuire praticamente con certezza questi cambiamenti alle attività umane dell'ultimo paio di secoli. In particolare la combustione di petrolio, carbone e gas naturale che libera nell'aria grandi quantità di CO2. La CO2, anidride carbonica o per meglio dire diossido di carbonio, è il principale tra i gas effetto serra emessi dall'uomo e che attualmente intensificano l'effetto serra naturale, ma non è l'unico. L'importante gas effetto serra ad esempio è anche il metano, in questo caso è un gas che viene liberato in particolare dai grandi allevamenti di bovini soprattutto e si sviluppa anche ad esempio nella coltivazione del riso. Quindi vediamo che anche l'agricoltura e l'allevamento hanno un ruolo nell'alimentare l'incremento dell'effetto serra. Ma intanto quanta CO2 abbiamo in questo momento e chi ne emette di più? Distinguiamo intanto emissioni da concentrazioni. Facciamo un paragone con il rubinetto di una vasca da bagno. Le emissioni sono la quantità di acqua che esce dal rubinetto, le concentrazioni sono il livello che l'acqua raggiunge all'interno della vasca da bagno. Per quanto riguarda le emissioni, attualmente siamo su livelli enormi. Pensate che l'umanità comporta la liberazione ogni anno di circa 34 miliardi di tonnellate di sola CO2, ma se comprendiamo anche tutti gli altri gas effetto serra e ne omogeneizziamo l'effetto traducendolo in CO2 equivalente arriviamo a oltre 50 miliardi di tonnellate, una quantità enorme. L'Italia si colloca su circa 7 tonnellate pro capite all'anno di CO2 ed è un po' nel mezzo tra i paesi più energivori e quelli che sprecano anche più energia e risorse come gli Stati Uniti, come il Canada, come l'Australia, paesi in cui peraltro il carbone gioca ancora un ruolo importante nella produzione di energia e si arriva addirittura a oltre 20 tonnellate pro capite all'anno di CO2 equivalente. All'estremo opposto poi stanno i paesi più poveri, dove al contrario il problema è l'accesso all'energia. In questi paesi addirittura gran parte della popolazione vive senza energia elettrica, parlo di paesi subsahariani ad esempio, dove la produzione pro capite annua di CO2 equivalente è limitata a pochi chilogrammi. L'Italia e l'Europa tra questi due estremi si colloca grosso modo a metà. Quindi ci sono paesi che hanno storicamente una maggiore responsabilità nei cambiamenti climatici e nell'aumento dell'effetto serra e altri paesi che invece di responsabilità non ne hanno praticamente per nulla, però saranno tra l'altro quelli che subiranno anche gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici perché hanno delle società e delle economie che sono ancora meno preparate di noi, ancora più vulnerabili di fronte a un clima e un ambiente che cambia. E tutto questo di nuovo potrà scatenare una maggiore tendenza alle migrazioni umane nei prossimi decenni, nei prossimi secoli. Ma come facciamo a produrre tutta questa CO2, tutta questa quantità di biossido di carbonio? Intanto bruciando carbone, petrolio e gas naturale per produrre energia, per far funzionare le caldaie, i riscaldamenti, i mezzi di trasporto, ma non solo. Dietro ogni oggetto che acquistiamo, che consumiamo, c'è una lunga storia di energia e di materie prime e di questo dobbiamo essere consapevoli perché scopriamo che i nostri stili di vita e il nostro benessere in qualche modo sono strettamente correlati con le emissioni di gas serra. Più consumiamo, più inquiniamo e più contribuiamo a cambiare il clima. I gas a effetto serra hanno un lungo tempo di permanenza nell'aria, nel caso della CO2 anche più di un secolo. Ecco che i gas che emettiamo ora continueranno a riscaldare il clima per diversi decenni, addirittura secoli e questo vediamo che sarà un problema indubbiamente anche per le generazioni future. In base a come cambieranno in futuro le nostre emissioni, gli scienziati provano a calcolare come potrebbe cambiare il clima attraverso delle famiglie di scenari, attraverso tra l'altro delle modellizzazioni al calcolatore delle componenti fisiche del clima terrestre in risposta appunto a livelli di gas a effetto serra che peraltro dipenderanno anche profondamente dai cambiamenti demografici che abbiamo all'orizzonte. Quanti saremo in futuro a inquinare? Ecco che abbiamo come dire due gruppi fondamentali di scenari, due evoluzioni che possiamo tenere in considerazione, anzi tre. Abbiamo da un lato scenario auspicabile, quello auspicato peraltro dall'accordo di Parigi varato nel 2015 con la COP21 e che si propone di portare alla riduzione significativa del gas a effetto serra dell'insieme del mondo, se saremo così bravi da centrare questi obiettivi arriveremo a una terra nel 2100 che sarà più calda tra 1,5 e 2 gradi rispetto all'era preindustriale. Questo è un obiettivo estremamente ambizioso ma assolutamente necessario per conservare adeguatamente le condizioni di vivibilità di questo pianeta. Se invece continueremo a inquinare, a emettere gas a effetto serra come abbiamo fatto finora, il cosiddetto scenario business as usual, quindi continuiamo senza ridurre significativamente le emissioni, potremo trovarci nel 2100 e anche oltre con una terra più calda di almeno 4 gradi nell'insieme del pianeta ma con alcune zone che si riscalderanno molto di più, ad esempio l'Artico che già adesso si sta riscaldando molto più della media globale e a fronte di un aumento globale di circa 4 gradi al 2100 potrebbe riscaldarsi in questo caso anche di oltre 10 gradi determinando la scomparsa ad esempio della banchisa, ovvero della superficie di ghiaccio marino intorno al polo nord che peraltro funge anche da regolatore del clima terrestre. Se scompare la banchisa il mare scuro che emerge assorbe più radiazione solare, si riscalda di più e questo si ripercuote poi anche nell'insieme di tutti quegli ambienti, aria compresa, ecco perché il riscaldamento nell'Artico è più accentuato che altrove, parliamo infatti di amplificazione Artica. Tutti i fenomeni che abbiamo riscritto finora, l'aumento delle temperature, la deglaciazione, l'aumento dei livelli marini, la perdita di biodiversità che è un altro fenomeno estremamente grave perché minaccia la stabilità degli ecosistemi da cui noi stessi e le nostre economie dipendono, tutti questi fenomeni non potranno che aggravarsi in futuro in maniera più o meno importante appunto in base alle future emissioni di gas effetto serra. Quindi oggi l'obiettivo primario è ridurre quanto prima le emissioni attraverso quel processo che chiamiamo decarbonizzazione. Ci sono molti modi per arrivarci, da integrare tutti insieme per raggiungere questo obiettivo irrinunciabile. Ci sono alcune cose più facili, alcune cose più difficili, tante cose le possiamo fare già nell'immediato, altre cose invece necessitano di processi più lunghi governati dalla politica che deve cogliere l'urgenza di questi problemi per guidarci verso un futuro più sostenibile. Tra le tante cose che possiamo fare già autonomamente senza che ci siano degli accordi internazionali a dircelo o a imporcelo, mi viene in mente ad esempio l'azzeramento dello spreco di cibo. Produrre cibo costa molto all'ambiente e comporta anche grandi emissioni di CO2, perché come dicevamo, di altri gas effetto serra come il metano, perché l'allevamento e l'agricoltura forniscono la loro quota di emissioni di gas serra. Quindi tutto ciò che sprechiamo nei nostri piatti comporta anche un inutile incremento dell'effetto serra. Siccome abbattere lo spreco di cibo è molto facile, perché basta essere più attenti e non dobbiamo, come dire, acquisire nessuna tecnologia particolare, abbiamo già tutto quello che ci serve, dipende solo dai nostri comportamenti e questo può già ridurre di moltissimo le emissioni. In un rapporto recente dell'IPCC, ovvero di quel organismo intergovernativo per la valutazione dei cambiamenti climatici, si dice che abbattendo lo spreco di cibo si potrebbe ridurre di un decimo le emissioni globali di gas effetto serra. Quindi solamente facendo attenzione, più attenzione sia nei processi produttivi ma soprattutto nella gestione domestica del cibo, perché non dimentichiamo che gran parte degli sprechi alimentari avvengono non a livello di filiera industriale, a meno nei nostri paesi, ma a livello di consumatori finali, dai ristoranti alle mese alle tavole di tutti noi. Ma oltre alla riduzione o meglio l'azzeramento dello spreco di cibo, abbiamo molte altre armi in mano per ridurre il nostro impatto sul clima. Ad esempio una dieta più vegetariana o comunque meno carnivora, che contribuisce di gran lunga a ridurre le emissioni, perché la produzione di carne, soprattutto bovina, comporta elevate emissioni di gas serra e tra l'altro anche spesso purtroppo la deforestazione di ampie porzioni di foresta pluviale, di foresta vergine. Non si tratta di diventare completamente vegetariani ma di ridurre i consumi di carne che peraltro spesso nella nostra società sono eccessivi anche per la nostra salute. Poi la produzione energetica da fonti rinnovabili. Oggi la tecnologia ci mette già tutto ciò che serve a disposizione per produrre una sempre maggiore quota di elettricità da pannelli fotovoltaici, paleoliche, impianti idroelettrici che peraltro già in Italia e nel mondo sono ampiamente sviluppati, ma via via queste tecnologie possono aiutarci ulteriormente. L'Italia già ha una produzione rinnovabile interessante che ormai copre circa un terzo del nostro fabbisogno di elettricità e via via dovremo aumentare in futuro il nostro oro e in particolare l'energia solare ma anche l'energia eolica se opportunamente sviluppata nei luoghi opportuni in cui il vento c'è può dare risultati interessanti. Poi pensiamo alla mobilità. Viviamo in un mondo altamente interconnesso dove siamo abituati a spostarci molto, a volte anche con scarsa utilità al netto delle attuali restrizioni Covid. Ecco se c'è una cosa che abbiamo imparato in questo anno è che il telelavoro funziona seppur chiaramente andrà regolato con delle normative adeguate però ci può aiutare di nuovo in questo caso a tagliare molto del nostro chilometraggio quotidiano. Pensiamo ad esempio anche alle vacanze. Siamo ormai abituati a viaggiare da un capo all'alto del mondo come niente fosse però questo ha anche un elevato impatto sull'ambiente e sul clima e dovremo forse anche imparare ad apprezzare di più le cose belle che ci sono da vedere su distanze non troppo lunghe. Quindi molte cose possiamo farle già per nostro conto ma poi a un certo punto deve essere la politica a guidare un insieme di scelte strategiche sul lungo periodo che coinvolgono anche l'economia e le trasformazioni in generale della società dell'economia e della finanza internazionali. E questo è il ruolo che hanno i governi e che hanno soprattutto le coalizioni internazionali dei governi come quelli che si sono messi insieme per aderire all'accordo di Parigi nel 2015. Tutto questo però non basta ancora. Pensate che se dovessimo effettivamente applicare tutte le promesse di riduzione delle emissioni di gas effetto serra portate avanzate in occasione dell'accordo di Parigi da ciascun paese arriveremo comunque pur sempre a un aumento di temperatura dell'ordine dei 3 gradi entro la fine di questo secolo. Tre gradi in più è troppo e è un riscaldamento che è ancora in grado ad esempio di destabilizzare in maniera significativa e pericolosa la calotta glaciale dell'Antartide determinando un aumento rilevante dei livelli marini. Dobbiamo puntare a una maggiore ambizione climatica. L'Europa ha recentemente annunciato l'intenzione di arrivare a meno 60 per cento di emissioni di gas serra nel 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di completare il processo di decarbonizzazione entro la metà di questo secolo. Questo è sicuramente un obiettivo ambizioso, irrinunciabile che speriamo verrà mano a mano intanto applicato per prima cosa qui da noi nel nostro continente e via via seguito anche da altre iniziative analoghe nel resto del mondo. La strada indubbiamente è in salita ma la posta in gioco è molto elevata perché ne va della vivibilità di questo pianeta. Oltretutto oggi abbiamo parlato degli acciai, di clima che cambia e tutto questo è solo una tessera del preoccupante mosaico di problemi ambientali che abbiamo di fronte che compongono sicuramente la più grande sfida che l'uomo abbia davanti a sé che abbia mai affrontato nel corso della sua civiltà. Ci troviamo di fronte a un bivio se saremo in grado di cogliere, di mettere a frutto tutta l'intelligenza umana e tutto il sapere che abbiamo accumulato finora e di metterlo a frutto per inventare un mondo migliore, un mondo in cui peraltro anche si possa garantire il benessere delle future generazioni, allora come dire avremo forse vinto questa battaglia e garantito a chi verrà dopo di noi un mondo più equo e sostenibile. Non possiamo perdere questa questa battaglia perché la posta in gioco è davvero alta. Comunque andrà il sistema terra, troverà sicuramente i nuovi equilibri. Il problema è soprattutto umano in quanto cambiamenti radicali degli ecosistemi che finora ci hanno sostenuti potrebbero anche non più garantire l'abitabilità di questo pianeta. Io e i miei colleghi abbiamo avuto modo di, il privilegio di vivere degli ambienti straordinari come quelli dei ghiacciai, godendo anche di atmosfere straordinarie, magari difficili anche da 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 percepire per chi vive in pianura o lontano dalle montagne. La speranza è, a dire di tutto, che anche chi verrà dopo di noi possa ancora respirare e vivere un po' di questi ambienti spettacolari. Grazie a tutti. Quando apriamo un rubinetto molte volte non ci rendiamo conto di quello che facciamo e soprattutto di quello che c'è dietro quel rubinetto. Cioè un gesto che per noi è comune, che facciamo quasi involontariamente, nasconde e c'era un mondo fatto di precisione, di competenza, di lavoro, di sacrifici e di preparazione. Fanno era approvvigionata attraverso delle sorgenti in zona Pozzetti, in Via Tolmino, oggi, e attraverso delle gallerie che erano state realizzate nella piccola vallata, nel piccolo presente su Via Tolmino e quindi gallerie drenante che portavano acqua, acquisivano acqua dal terreno e le portavano in una piscina. è una piscina di maglia, nel senso che veniva utilizzata semplicemente per rallentare la forza dell'acqua e farla sedimentare e poi veniva immessa verso la tubazione principale che scendeva verso Fani. L'acquadotto di Fano si approvvigiona da due fonti principali, l'acqua di falda attraverso dei pozzi terebrati nel territorio del comune di Fano e l'acqua superficiale. L'impianto preleva circa 100 litri di acqua al secondo dal fiuma Metauro. Il punto di presa è posizionato sulla briglia di Cerbara, pesca direttamente dal subalveo. L'acqua prelevata viene pretrattata nell'impianto di Cerbara e poi inviata all'impianto di potabilizzazione. All'ingresso dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua che proviene dal fiume Metauro c'è un grande serbatoio a cielo aperto che viene chiamato, è un sedimentatore di fatto, viene utilizzato per far sedimentare i limi presenti ancora nelle acque grezze pretrattate provenienti dall'impianto di Cerbara per farle depositare sul fondo e poi prelevare i fanghi. Per attivare questo tipo di processo di sedimentazione viene usato del policloruro d'alluminio che è un polielettrolita che ci permette appunto di far flocculare il prodotto, aggregare i fanghi, farli aumentare di peso e farli decadere sul fondo. E quindi si ha una purificazione dell'acqua proveniente dal fiume Metauro che poi va al processo di potabilizzazione. L'impianto di potabilizzazione di tonno è un impianto particolare, ha due linee di produzione, una attraverso un trattamento di tipo fisico e l'altra direttamente naturale. Aset garantisce l'uso dell'acqua in tre comuni per un totale circa di 80.000 abitanti durante l'inverno e arrivare più di 100.000 durante l'estate con bisogni completamente diversi. Basta dire che passiamo da 170 litri al secondo per la città di Fano durante l'inverno e a 250 litri durante l'estate. Ci rendiamo perfettamente conto dell'importanza della risorsa idrica che deve essere garantita a tutti, che deve essere accessibile a tutti e che è sempre più rara. Su questo ci muoviamo seguendo varie direttive. La prima è quella di cercare di preservare la risorsa, quindi con la sostituzione delle condotte per evitare sprechi e con l'ausilio di nuove tecnologie per rilevare perdite. Oppure cercando di portare avanti delle politiche insieme ad altri operatori che possano in qualche modo aumentare le capacità di accumulo delle fonti che ci garantiscono ad oggi la riserva d'acqua. Il laboratorio è una struttura che fa le analisi sull'acqua potabile del comune di Fano e dei comuni soci, il Comune Mondolfo, Monteporzio e non solo l'acqua potabile ma anche l'acqua reflua, rifiuti, tutto quello che in pratica gestisce ASET. Per quel che riguarda soprattutto l'acqua potabile, noi facciamo dei controlli mensili, settimanali, a volte giornalieri, per garantire la sicurezza igienica dell'acqua distribuita agli utenti. Se i dati sono quelli che abbiamo rilevato, ovvero sia che solo 4 persone su 100 utilizzano l'acqua potabile che esce dal rubinetto per usi civili veri e propri e non per annaffiare il giardino, pulire la macchina, evidentemente abbiamo un problema di comunicazione. Tra l'altro noi questi anni abbiamo cercato anche di investire insieme all'autorità, su indicazione dell'autorità locale di regolazione, anche sulla comunicazione, pubblichiamo i dati delle analisi dell'acqua potabile divise per zone sul nostro sito e quindi con risultati che si sono mantenuti sempre grandemente al di sotto dei limiti di legge. Bisognerebbe bere l'acqua dal rubinetto. Le mie figlie e la mia famiglia bevono acqua dal rubinetto. Siamo una provincia che dipende all'80% da acque superficiali e purtroppo con i cambiamenti climatici che sono in corso. La sicurezza di avere continuità nell'approvvigionamento sta diventando un grande tema sul quale siamo tutti impegnati anche a trovare soluzioni e quindi non c'è più tutta questa certezza di averla se non facendo investimenti e continuando con un'attenzione anche nel consumo che peraltro abbiamo rilevato perché in questi anni abbiamo visto come i cittadini siano sempre più attenti e consumino in maniera intelligente l'acqua, quindi abbiamo avuto una riduzione rilevante dei consumi. Però ecco, dovremo continuare a investire e dovremo sicuramente cercare di apprezzare maggiormente il prodotto che ci arriva in casa con tutti i requisiti di legge. E tutto quello che si fa, tutto quello che si è fatto, tutto quello che si farà tenderà solo ed esclusivamente ad un fine quello di garantire a ognuno di voi che possiate servirvi liberamente e con la massima sicurezza dell'acqua che vi trovate nei rubinetti dentro casa perché quell'acqua lì è un'acqua che ha superato tutti i controlli possibili e immaginabili sulla quale noi abbiamo scommesso fino all'ultimo centesimo di tecnologia che stiamo applicando ed è completamente sicura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.